Torre Pinna, la porta è rimasta inviolata, 1-0-0 che però non ti lascia completamente soddisfatto come tutta la squadra. Sì, non siamo soddisfatti perché volevamo portare a casa i tre punti, però questi sono campi difficili. Campo difficile, abbiamo dato tanto, purtroppo siamo seguiti anche da malassurti, da infortuni, da transferti che non arrivano, quindi la torse ancora al completo, però bisogna rendere merito anche a chi si sta impegnando e chi sta dando tutto. A quelli che sono nel campo. Sicuramente oggi ci aspettavamo una partita così dura, però siamo rammaricati per non essere riusciti a portare a casa i tre punti. Però mi hanno sempre insegnato, con un po' di esperienza che ci ho in tutti questi anni, che i cavalli si vedono alla fine. È sempre meglio non perdere e sarà un punto importante questo. Certo, l'esperienza del capitano. Abbiamo detto che è un campo difficile, poi si è giocato anche davvero molto poco. Tante perdite di tempo con questi palloni che non arrivavano mai. Si è giocato molto poco quest'oggi. Sicuro, tutti con la Torres, adesso non vuole giocare nessuno, quindi per le altre squadre pareggiare con la Torres è come vincere una partita. Non ce lo dimentichiamo, noi siamo la Torres, come l'ho spiegato anche ai miei compagni. Questo è il valore che a noi ci deve far capire e ci deve far credere nella nostra entità e soprattutto in questo più grande progetto della società. Noi siamo una squadra che deve rimanere solo quest'anno in questo campionato. Torre, si riparte da qui. Bisogna già pensare alla prossima, ovviamente risettare e migliorare, magari riuscire a finalizzare. Perché oggi è mancato un po' di cinismo, come abbiamo detto anche con San Rizzo. Sì, oggi secondo me abbiamo sbagliato qualcosina, non siamo riusciti ad essere un po' più cattivi e determinati nel far gol. Però, ripeto, non bisogna dare colpe a nessuno, anzi bisogna proprio ripartire dagli errori che abbiamo fatti come squadra tutti quanti, dal primo all'ultimo. E già domenica andare all'attacco per cercare di far gol e portare un risultato positivo. Solo una parola, i tifosi erano con voi ovviamente, anche oggi è sempre bello vedere questo ambiente. Infatti, siamo andati a fine partita e gli ho detto grazie. Grazie perché una tifosiera come la nostra non c'è in tutta la Sardegna, perché sono i migliori. Perché sono gente che ti fa veramente sentire un giocatore veramente importante. E loro ci stanno riuscendo, ci sono vicini e noi faremo di tutto per portarli a essere felici e ritornare allo stadio più numerosi che mai. Vedere quella vecchia Curva Nord, importante, come sempre. Grazie, Torre.